Sono salvi i posti di lavoro alla Vibac di Vigiano. Il gruppo che produce materiale plastico ritirerà la procedura di mobilità per i 184 dipendenti dello stabilimento Lucano presentato lo scorso dicembre e avvierà un piano industriale triennale da 8 milioni di euro ad annunciarlo a potenza l'assessore regionale al lavoro, Raffaele, Liberali e rappresentanti sindacali. L'accordo raggiunto al termine di un lungo incontro in regione prevede investimenti per la realizzazione di impianti di risparmio energetico con un abbattimento dei costi fino al 30% e per processi di innovazione della produzione, fondamentale la disponibilità dei lavoratori. Saranno attivati anche i contratti di solidarietà con graduale riduzione in tre anni e il congelamento della quattordicesima mensilità. I dipendenti manterranno però i premi di produzione e il gruppo industriale vorrebbe riprendere al più presto le attività cominciando con la manutenzione della struttura ferma da circa due mesi per rispondere anche alla domanda di mercato per i sindacati. Si tratta di un accordo cruciale perché l'azienda resta e non era scontato nonostante avesse annunciato il termine della produzione lo scorso 15 di dicembre.